Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di Blonde di Andrew Dominic. Finalmente arriva su Netflix l'ultima fatica di Andrew Dominic, regista classe 67 con una filmografia che conta solo 4 film realizzati nel corso di oltre 20 anni. L'interesse di Dominic verso Marilyn Monroe e il romanzo di Joyce Carol Oates, che ricordiamolo dichiaratamente non è autobiografico, risale circa al 2002, 20 anni fa. Conquistato dalla lettura del romanzo, il regista ha iniziato concretamente a pensare a un adattamento pochi anni dopo, intorno al 2008, scontrandosi con varie difficoltà e sviluppando il progetto nel corso di più di un decennio. Il risultato, diciamolo subito, è fenomenale. Blonde, nonostante la tiepida accoglienza della critica a Venezia, è un capolavoro, un film senza tempo, un miracolo cinematografico che sorprende soprattutto per l'estrema libertà di sperimentare che è stata lasciata al regista, cosa sempre più rara in ambito hollywoodiano. Netflix sembra ormai l'unica possibilità per certi registi. Infatti, tra le decine di prodotti mediocre ritargati Netflix, la piattaforma di streaming si preoccupa di produrre, ogni tanto, opere che difficilmente avrebbero visto la luce altrimenti. Blonde si inserisce in questo gruppo di film e segue il caso di Mank di David Fincher, di The Irishman di Martin Scorsese e Roma di Alfonso Cuaron. La tiepida accoglienza ricevuta da Blonde può essere in parte spiegata dall'approccio scelto da Dominic, molto vicino a quello del romanzo di Oates. Blonde non si pone come biografia di Marilyn Monroe, si discosta dal classico biopic hollywoodiano, decostruendo il genere e avvicinandosi di più all'horror, agli incubi linciani di Mulholland Drive e Fuoco cammina con me. Dominic ha cercato di farci assumere il punto di vista di Norma Jean e Marilyn Monroe, distorcendo la realtà arrivando a conseguenze estreme e senza dubbio divisive. Dei tentativi di questo tipo li abbiamo già visti recentemente, con gli atipici biopic di Pablo Larraín, che però avevano sortito risultati alterni. Se Jackie era pienamente riuscito, Spencer e il tentativo di trasformare il biopic in una sorta di horror era purtroppo fallito, ne ho parlato nella classifica dei film dell'anno scorso. In ogni caso, al di là dei risultati, è chiaro che Dominic si sia spinto molto più in laco la destrutturazione del biopic classico e soprattutto con il ridimensionamento, se non la distruzione, di un'icona pop come quella di Marilyn Monroe. Forse l'icona pop per eccellenza non a caso scelta da Andy Warhol per una delle sue opere più celebri, molto vicina nei significati al film di Dominic. Inizialmente le scelte stilistiche di Dominic possono lasciare spiazzati. Continui cambi di aspect ratio, dall'1 all'1,37 all'1,85 al 2,39. Passaggi dal bianco e nero al colore, movimenti di macchina ansiogeni che spesso sembrano volersi attaccare personaggi, quasi tentassero di entrare nella loro mente. Grandangoli che distorcono la realtà, ralenti e riprese velocizzate. La parola chiave, secondo Chai Zirvin, direttore della fotografia è Chaos, uno stile caotico, carico e soprattutto appariscente, che mette in evidenza l'artificiosità dell'opera agli estremi opposti del decoupage classico americano che vuole nascondere invece la finzione e far sembrare vero ciò che vero non è. Tutti elementi che altrove avrebbero potuto far sprofondare un film nell'estetizzazione più vacua, se non in certi casi nel kitsch e nel trash, specialmente nelle scene più grottesche come quella del feto che parla alla madre. Ciò però non avviene perché le scelte stilistiche si fanno significato e diventano il principale veicolo di quello che Dominic vuole esprimere, cosa sempre più rara in un momento in cui, paradossalmente, nel cinema sembrano perdere l'importanza le immagini a favore delle parole. Dominic invece utilizza le immagini per esprimere il disagio vissuto da Norma Jean e per demolire un mondo che è basato proprio sulle immagini, come quello dell'industria del cinema, in particolare quella hollywoodiana. Norma Jean cresce in California e fin da piccola è sottoposta al culto delle immagini, con la foto del presunto padre, personaggio importante e potente, del quale però non ha altro che una fotografia, che peraltro non può neanche toccare. Cresciuta come bambina ripudiata dai genitori, il padre che non l'ha mai riconosciuta, ma anche la madre che le attribuisce la colpa per la fine della relazione con il suo amato, Norma Jean entra nel mondo dello spettacolo dominato dagli uomini e fin dall'inizio capisce che non è il talento ciò che interessa principalmente, bensì la sua bellezza. È così che nasce Marilyn Monroe, un personaggio fittizio, niente di più che il personaggio di un film, ma soprattutto un personaggio che fa della propria immagine la principale arma. Il problema è che Marilyn inizia gradualmente a far scomparire Norma, fino all'annullamento totale. Sia Dominic che Anna de Armas hanno spiegato che l'obiettivo del film era quello di raccontare la storia della donna più famosa e vista del mondo, ma allo stesso tempo la più invisibile. Infatti Norma Jean scompare sempre di più nel corso del film, un abuso dopo l'altro, una sconfitta dopo l'altra. L'identità della protagonista si frantuma come simboleggiato dal grande numero di specchi, spesso rotti, che si vedono nel corso del film. Il personaggio prende il posto della persona e allora la vita dell'attrice diventa un collage di situazioni, di episodi, in cui i film si confondono con la realtà, in una progressiva dissoluzione dei confini tra la vita vera e lo spettacolo. L'esibizione del mezzo cinematografico, con il continuo cambio di ratio e di colore, dà l'impressione di assistere a scene di film diversi, a episodi quasi sconnessi gli uni dagli altri, ma allo stesso tempo appartenenti a un unico flusso, a un viaggio nella mente della protagonista, che totalmente scomparsa nel personaggio che ha creato, ormai vede il cinema e lo spettacolo come unica lente attraverso cui interpretare la realtà. Lo dice chiaramente nella scena con Kennedy, in cui durante l'ennesimo abuso che subisce, trattata come un mero oggetto sessuale, si chiede se sia tutto reale o solo la scena di un altro film, e che qualsiasi scena può essere interpretata e durerà solo pochi minuti. Insomma, la fuga dalla realtà è l'unico modo per salvarsi da ciò che è attorno, ma allo stesso tempo è ciò che la fa sprofondare in una spirale di disperazione e follia, in cui la conclusione inevitabile è la morte. Nel film vengono ripetute in continuazioni battute tipo sembra un film, sembra una fiaba e via dicendo. La stessa madre di Norma Jean all'inizio dice che in California è difficile capire cosa sia reale e cosa no. Ancora una volta tutto ciò si riflette magistralmente nelle scelte stilistiche di Dominic, in particolare nell'ultima ora, in cui il regista ci vuole immergere nel delirio della protagonista, ormai dipendente dalle medicine e dall'alcol. Il realismo viene quasi totalmente abbandonato, aumenta l'uso del fuorifuoco, la realtà viene deformata metaforicamente e fisicamente, si pensi alla scena in cui vengono gigantite le bocche delle persone o ai già citati rallenti e velocizzazioni. In questa parte del film entriamo veramente in territori linciani, merito anche delle splendide musiche di Nick Cave e Warren Ellis, che a tratti ricordano quelle di Badalamenti. Si arriva addirittura nell'ultima mezz'ora, quando Marilyn ha ormai perso ogni appiglio alla realtà, al thriller cospirazionista degli anni 60, con inquadrature e movimenti di macchina che riportano alla mente la trilogia paranoide di John Frankheimer, in particolare Seconds, per il modo in cui le immagini vengono distorte dalle lenti grandangolari e vari altri espedienti. Non a caso in questa parte del film la protagonista inizia a credere di essere spiata, di essere tenuta sotto controllo da agenti governativi e la scena del sogno aborto sembra uscita direttamente da un thriller cospirazionista della New Hollywood. A proposito di immagini è strepitoso il lavoro che Dominic fa sulle immagini celebri che ritraggono Marilyn Monroe. Come ha sottolineato il regista in varie interviste, Marilyn è stata la donna più fotografata, se non in assoluto, sicuramente della sua epoca. Ancora oggi la quantità di fotografie e video reperibili è enorme. Dominic ha realizzato una raccolta di foto e documenti che ha poi passato a tutto il cast e la crew, come base da cui partire per costruire le varie scene. Molte delle fotografie più iconiche di Marilyn vengono riprodotte fedelmente, condizionando spesso la scelta del colore o del bianco e nero, in modo da riprodurre alla perfezione il materiale di partenza. Ma Dominic non si limita a fare delle cover, bensì stravolge il significato di queste foto. Un esempio su tutti, l'iconica foto realizzata durante le riprese di Quando la moglie è in vacanza, forse una di quelle che rappresentano meglio Marilyn Monroe come sex symbol, come oggetto del desiderio di tutti gli uomini. Dominic riporta in scena quell'episodio dal punto di vista di Marilyn, delle conseguenze che ha avuto sul suo secondo matrimonio e soprattutto viene rappresentato come l'estremo sacrificio della diva, come il darsi in pasto alla folla che l'ha idealizzata e che la vede come oggetto del desiderio, ma non come persona. Il regista dunque non solo ricostruisce l'icona ma anche le immagini più celebri che la ritraggono e che hanno costruito il mito, facendo vedere cosa si cela dietro i sorrisi forzati. In ultima analisi, sembra dirci Dominic, il destino infelice di Norma è segnato dalla frattura tra l'immagine di sé coltivata da bambina, ovvero quella di una bambina non voluta dai genitori, non desiderata, e quella di diva più desiderata del mondo. Desiderio che, come già accennato, si traduce quasi sempre nella proiezione dei propri desideri su di lei. E così Kennedy la vuole come oggetto sessuale, il secondo marito vuole che sia pudica e che non si mostri svestita in pubblico. Col terzo marito sembra sia lei stessa voler mostrarsi come intellettuale e acculturata. E poi ovviamente c'è il pubblico e tutta l'industria cinematografica, che conosce Marilyn, vuole Marilyn e ignora totalmente chi sia Norma e quali siano i suoi desideri, portandola ad abortire contro la sua volontà pur di continuare a interpretare il suo personaggio. In questo senso Marilyn diventa l'incarnazione definitiva della maschera del clown triste, del comico di Watchmen, di De Niro di Re per una notte e del finale di Toro Scatenato, appunto del personaggio e della maschera esibita al pubblico dietro alla quale si cela la vera persona. Ed è anche chiara l'accusa alla fabbrica dei sogni, all'industria hollywoodiana demolita dall'interno esibendo tutte quelle dinamiche già presenti nella hollywood classica che hanno portato decenni dopo al Me Too. Una menzione va alla clamorosa interpretazione di Anna De Armas, una performance da storia del cinema. L'attrice si immerge a tal punto nel personaggio che a tratti sembra di vedere Marilyn e non una sua riproduzione, nonostante tra l'altro non si tratti di un biopic. E forse è proprio per questo motivo che il film riesce a raccontare meglio Marilyn e a catturare la sua anima nelle quasi tre ore di durata, come sarebbe stato impossibile fare con una struttura più classica. Blonde è un'opera complicata anche da descrivere in una recensione, un'opera che necessita di essere vista e rivista e che non potrà essere ignorata da chiunque ad ora in poi metterà in scena la vita di un personaggio storico approcciandosi al biopic, ma soprattutto un film che spero venga apprezzato nel tempo, più di quanto non sia stato fatto a Venezia. Senza dubbio è divisivo, mette alla prova lo spettatore e a tratti è quasi respingente e fastidioso per ciò che viene messo in scena e per la violenza psicologica e fisica a cui sono sottoposti la protagonista e anche gli spettatori. Inevitabilmente ha fatto discutere e farà discutere, ancora più inevitabilmente verrà frainteso, ma anche in questo sta la bellezza di un'opera così coraggiosa e libera. Grazie per aver visto questo video, come al solito vi rimando alla descrizione in cui trovate il link al sito Schegge di Vetro, sito a tema cinema in cui trovate recensioni speciali e analisi. Grazie per essere arrivati fin qui e ci vediamo al prossimo video.